Andiamo per questa avventura Come si chiama? Alla discoteca Fortnite La discoteca Ecco il mio Tu lo sai che è Fabio Foltachioma Vanno in discoteca Ecco Fabio Foltachioma a Brustoliso Ma dove? Ok E' pure io Guarda che ali dorate Anzi ali di fuoco Madonna quanto sai altro Fighissimo Sì guarda Una squadra da due Hanno fatto Coppie Una coppia Dove atterrate? Alla discoteca De Fabio Foltachioma Ah c'ha pure la discoteca Vicino a Brugliere Eh ragazzi Guarda che belle le ali Si paga il biglietto Alla discoteca? No In caduta libera No no Non c'è Cento È l'ovissimo Più un'arma Godo Vamo ragazzi, vamo! Un kill. Pomba. Qual è l'arma migliore secondo te? Ehm... Lo scar. Eppure questa io ci spalmo un botto. Un kill. Un kill. E eccoci. Vamo! Un kill. Un kill. Un kill. Un kill. Un kill. Un kill. stiamo recuperando i materiali ci servono per fare le scale tetti nascondigli bravo questo serve per lo scudo ha fatto lo scudo quella bibita eppure io c'ho 100 di video e 50 taglia di scudo o chi è? chi è? un ballerino un balletto ci sta sempre bene è a mille metri non lascia l'ossa non morirà sì non siamo in safe nota pure un bravo nuotatore Fabio Foltachioma fate il medico e non la piamo fate ha fatto fate il medico se è medicato un bel salto lungo e in alto fammi ci cura dammeli a me me li faccio io dammi cura bomba oh migralietta mia nooo dammi le pallottole 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 no tu mi devi dare corpi pompa ma pure io c'è pompa bianco tu che ma tu mi devi rispettare a me sì mi devi rispettare perché so a livello molto più alto di Gagamelo so al 121esimo livello 25 io so al 129esimo livello e tu all'84esimo 85 all'85esimo ma io al 129esimo oh allora mi faccio questo aspetta vai con lo scudo ha un altro tesoro c'è ma dove l'hai trovato? ancora c'è ancora c'è aspetta dove c'è bagno di Shrek bagno di Shrek bagno di Shrek wow attenti spari 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 ma che vuoi? vai 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 va attenti ragazzi medikit 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 che? cadito? 25 giocatori rimasti e vabbè macchina si cinghialotti ma l'ho vista livello 130 oh una c'è lanciatore un da d'urto oh come la mia pozzoni io ce l'ho già una oh ma ma manu manuel oh c'è uno c'è lanciatore un da d'urto oh macchina via via dobbiamo pusharli eccoli sono scesi eccoli sono scesi attento stanno qua dentro eh di qua di qua stanno sono entrati di qua a questa qua hai visto? ma che volete? ma dove stanno? qua dietro sono andati qua a questo casucchino eccolo te l'ho detto zitta ti vengo a aiutare ti vengo a aiutare oddio vento che kill oh altri altri oh oh bravi oh oh scudo scudo prende l'ansia come fate a fa sto gioco passare ci ho un medico tre cinque 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 uno oh porco accucciati e ci spai allora andamola a pushar oh oh e sta dietro qualcosa ottino eccolo la gioca la macchina vai ah porco ce n'è un altro di là ce n'è un altro di là ma che mela c'ha questo non me la pusha eccolo o mai che vuoi eh oh vai scudo vai scudo c'è qualcun altro oppure a eccolo 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 gioc terrorism pure me lo frego io ce ne sanno due bravo vai attento hanno preso la macchina eccolo vai uno è preso attento che ti arrota con la macchina uè freghetti parco attento se metti fra pozzam oi uso o no no ancora vivo posizione 5 buona ragazzi